Perché lui infatti è Roberto Serafini Roberto Serafini, cantante internazionale, cantante dell'amore detto Cantante dagli occhi azzurri che fa impazzire le donne, no perché ha pesadito Ma voi guardate che da ragazzo c'aveva una marea di donne che lo seguivano, veramente una cosa terribile E poi ha questa voce bellissima, meravigliosa, i grandi autori sono interessati a lui E poi ha fatto tante cose importanti, una lunga carriera, lunghe tournee, lunghe cose Insomma è un grande... Ha girato il mondo in lungo e largo E ora è qui come sempre al Canta Festival Giro e quindi gustiamoci Roberto Serafini